Una gaffe istituzionale, poiché in virtù del ruolo che ricopre dal 2013 è sacrosanto dovere di conoscere e interpellare con tutte le sue naturali evoluzioni il tessuto regionale, per intero però perché l'Abruzzo non si identifica con Pescara. Tre associazioni di cui due peligne passano all'attacco all'indomani della stesura del patto per le donne non hanno digerito il fatto di essere stare escluse, proprio loro che si occupano a 360 gradi dell'universo femminile. Gemma Andreini, presidente della Commissione regionale per le varie opportunità, ha dimenticato di invitare l'associazione ISA di Pescara, che opera a sostegno delle donne colpite e la tumore a seno ormai da più di cinque anni, facendosi promotrice tutti i giorni di progetti, ogni volta diversi e stimolanti, che fa riferimento al professor Cianchetti. Gemma Andreini ha dimenticato di invitare il comitato spontaneo donne di Raiano, operante nel settore sin dal 2010 e che ha allergito quasi 100.000 euro a favore della senologia dell'Aquila del dottor Bafile. Gemma Andreini ha dimenticato di invitare noi, l'associazione Pink Pratola, di Giovane Costituzione sì, ma con tante realizzazioni all'attivo. Prima fra tutte la cura quinquennale di tamoxifene a favore di ben 88 donne venezuelane, scrivono le tre associazioni, che avrebbero chiesto di annullare le liste di attesa in favore delle donne bisognose di una prima visita, di abbassare l'età minima prevista per lo screening, visto il numero sempre più alto di case di tumore al seno in donne gravissime, e di verbalizzare il tutto al fine di giungere a una sottoscrizione degli accordi più seri e più programmatica. Lo faremo comunque attraverso il lavoro di squadra che da sempre ci contraddistingue e non dimenticando mai di sostenere l'esigenza di una parte dell'Abruzzo, purtroppo troppo spesso dimenticato, avvertono anche da lei e dalla sua commissione per le varie opportunità, il colmo dei colmi.